Buongiorno, mi trovo oggi pomeriggio verso sera al paese di Nasca, dunque ho preso da Milano il treno per andare a Gallarate, poi Gallarate sono sceso, ho cambiato il treno, ho preso il treno per Luino, poi sono arrivato proprio all'ultima fermata col treno di Luino comodo e c'era un bus che andava al paese di Nasca, questa è la chiesa, come vedete il basso rilievo è molto bello, oggi c'è un cielo azzurro stupendo, neanche una nuvola, qui sono in centro paese dove ci sono le vie molto strette, la via principale che è questa, ora sono seduto su una panchina a riposare all'ombra, non passa una persona e devo dire che questo paese si trova sopra il lago Maggiore, a Nasca, a Sarigo e proseguendo a piedi un'ora di passeggiata a piedi si arriva alla cascata della Froda che sono stato settimana scorsa. Dunque mi trovo al lago Maggiore, ecco in fondo degli stranieri perché qua ci sono molti tedeschi che abitano in questo paese, vengono nella stagione estiva come soggiorno, vi saluto e proseguo poi pian pianino a piedi, circa due chilometri arrivo a Caldè che c'è il treno poi alle nove diretto per Milano, arrivo Milano-Porta Garibaldi.